e adesso in queste ore sono uscito il discorso dei playoff come si mette questa situazione con la vendita che sembra essere imminente faremo domani siamo più precisi noi li faremo domani siamo più precisi comunque ma lei li farà in sella alla società oppure no 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 li fa quell'altro intanto domanda dovremmo fare il passaggio siamo addirittura d'arrivo sempre sera fino quello di cui si sta parlando in questi giorni sì ma questo sarà fino che io vorrei che voi non lo trattasse così male tanti fanno un sacco di domande cretine ma questa è una persona seria non è uno qualunque